In chiusura torna la serie di interviste dedicate al nostro caro e indimenticato Antonio Pignatello che il prossimo 15 febbraio avrebbe spento la sua sessantesima candelina. A ricordarlo oggi è Paolo Di Bella. Ho un ricordo di Antonio che più che essere limpido è abbastanza oscurato perché ogni volta che suonavamo in un posto lui era sempre dietro, dietro le persone che guardava. Con le mani in tasca oppure le mani conserte. Io me lo ricordo seduto su una sedia però sempre solo, su un tavolo da solo. Poi è capitato un aneddoto, eravamo con Gaetano a suonare in un posto e lui si è avvicinato avendo i rapporti con Gaetano e con altri ragazzi che suonavamo insieme. Gaetano diceva perché non suoni un brano? E' capitato che ho suonato con Antonio. E' stata una bella esperienza, aveva un tocco con la chitarra abbastanza importante, forte. si sentiva bluseggiante e rockeggiante nello stesso tempo. E una cosa che a me è rimasta impressa è stata che alla fine dell'esibizione lui si è tolta la chitarra, dava le spalle al pubblico quando si è tolta la chitarra, ha detto grazie a tutti e poi si è avvicinato a me e mi ha detto bravo. Mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto bravo. E questo è il mio ricordo di Antonio. Abbiamo avuto la possibilità di suonare insieme anche durante delle prove perché comunque lui essendo un amatore della musica era con noi quando provavamo. Ci frequentavamo poco perché c'è una differenza di età e quindi diciamo c'erano altri interessi. L'unico interesse che ci accomunava era la musica. Me lo ricordo anche per strada, che quando ci incontravamo per strada lui alzava e mi salutava sempre così. Non è che aveva grandi... non c'era la manifestazione. Lui salutava sempre in questa maniera. Un tipo molto riservato. Era come se lui non si interessasse particolarmente a quello che gli succedeva attorno. Lui non si interessava perché era disinteressato, ma lui era riservato anche quando si approcciava con le persone. I nostri dialoghi erano stretti. Mi ricordo l'ultima cosa che mi ha detto è quando mi ha suonato. Mi ricordo questo. E io gli ho detto il prima possibile suoneremo. E poi diciamo non è stato più possibile perché... Antonio, ovunque tu sia spero che comunque hai la possibilità di avere una chitarra e un Marshall. E comunque di fare musica. Buon compleanno.